10 dicembre da cima di monte prampa 1700 metri una carrellata in senso orario partendo dal Cusna in cui torneremo la nuda passo del cerreto con la nebbia come al solito alpe di succiso monte alto catena ventasso in lontananza pianura padana con le pre alpi dietro castelnuovo monte pietra di vismantova su cui proviamo a zoomare ma non credo di esserci riuscito sempre la pianura padana con la sua cappa di nebbia e ora sul lato est il cimone con un po di nuvole il fumo sale quindi alta pressione vedete quella ciminiera catena peninica modenese in pieno sole forse l'immagine viene distorta siamo tornati sul Cusna